Capiamo pagina, ci spostiamo a Gorizia. Autonomia responsabile si presenta a Gorizia e provincia, pronta a correre per le prossime elezioni comunali. Autonomia responsabile ha per Gorizia la stagione dei congressi per l'elezione dei propri rappresentanti territoriali. Si è finuta in questi giorni presso l'associazione Convivium, l'assemblea degli eletti, che ha confermato la guida provinciale del movimento, Fabrizio Reti, ed eletto a capo del coordinamento comunale del capoluogo, Antonio Devetac, già apprezzato assessore alla cultura del comune di Gorizia, direttore generale del Mittelfest, per oltre cinque anni. I due coordinatori saranno coadiuvati da due squadri, Oretti insieme a Ilva Greatti, Cressina Barletta, Carlo Musette, Stefano Careddu, formerà il comitato provinciale, mentre Devetac, con Celestino Turco e Caterina Ropallo, costituirà il comitato comunale goriziano. Durante l'assemblea i consiglieri comunali Oretti e Turco hanno tenuto a precisare che rimarranno al comando della lista civica per Gorizia. Lo scopo sarà quello di proporsi le prossime elezioni comunali con due liste civiche, autonomia responsabile Gorizia e la per Gorizia.